Un saluto a voi che ascolterete quest'audiolibro, La storia di tutto, di Giovanni Nucci, una versione semplificata della Bibbia, volta probabilmente più per un pubblico di bambini e ragazzi, ma che direi non fa male neanche a noi adulti riascoltare perché al di là del contenuto, perché è religioso o meno, perché è credente o meno, è un libro fondamentale d'altronde è il libro dei libri, la Bibbia, ci sono all'interno dello stesso tantissime storie, metafore, lezioni di vita sulle quali è sempre utile riflettere, buona fruizione a tutti.